Gloria a Dio, nostro Signore Gesù Cristo, che Dio vi benedica ancora in questa giornata, vogliamo apprestarci a meditare ancora i salmi, andare avanti in queste riflessioni che ci fortificano perché la parola di Dio riempie i nostri cuori. Quanto bisogno che abbiamo? Vogliamo pregare prima di leggere? Gloria a Dio, grazie Padre ancora in questa giornata, grazie per la Tua misericordia, la Tua bontà, la Tua fedeltà, Signore, grazie perché ancora Tu ci fortificherai con la Tua parola perché essa è vita, essa è potenza. Grazie, Signore, riempi i nostri cuori di fede, di speranza, Signore, e del Tuo amore, Padre, benedici il Tuo popolo in ogni luogo, Signore, nel nome di Gesù, Spirito Santo, parla ai nostri cuori, alleluia, nel nome di Gesù, Amen e Amen. Glorie a Dio, vogliamo leggere ancora in questo momento il Salmo 33, Amen. Leggiamo così come sta scritto al verso 1, Salmo 33, dice Esultate, esultate o giusti nell'eterno, esultate o giusti nell'eterno, la lode si addice agli uomini retti, celebrate il Signore con la cetra, cantate a Lui con l'arpa a dieci corde, cantategli un cantico nuovo, suonate abilmente e acclamate, Perché la parola dell'eterno è retta e tutte le sue opere sono fatte con fedeltà, gloria al Tuo nome, Signore, egli ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della benignità dell'eterno, Amen. I cieli furono fatti per mezzo della parola del Signore e tutto il loro esercito, mediante il soffio della sua bocca, egli radunò le acque del mare come in un mucchio, E ripose gli abissi in serbatoi, tutta la terra tema l'eterno, e tremino davanti a Lui tutti gli abitanti del mondo, poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa sorse, L'eterno fa fallire il piano delle nazioni e annulla i disegni dei popoli, il piano del Signore dimora per sempre e i disegni del suo cuore per ogni generazione, Beata la nazione il cui Dio è l'eterno, beato il popolo che Egli ha scelto per sua eredità, fratelli, Egli ci ha scelti, noi siamo il popolo del Signore, l'eredità del Signore, E un'eredità è qualcosa di prezioso, quando una persona riceve un'eredità la custodisce, la protegge, la conserva, cari, così noi siamo l'eredità del Signore, Perché Lui ci ha acquistati con il suo proprio sangue, ha dato tutto per noi, per, alleluia, comprarci, per acquistarci, gloria al suo santo nome, amè. Verso 13 Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti i figli degli uomini, dal luogo della sua dimora Egli osserva tutti gli abitanti della terra, alleluia, Egli è colui che ha formato il cuore di tutti, che comprende tutte le loro opere, Il re non è salvato da un grande esercito, il prode non scampa per la sua grande forza, il cavallo una speranza vana per salvare, E con la sua grande forza non può scampare al culo dal pericolo, alleluia. Ecco, l'occhio dell'Eterno, l'occhio del Signore, è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità, gloria a Dio, Per liberare la loro anima dalla morte e per conservarli in vita in tempo di fame. L'anima nostra aspetta l'Eterno, Egli è il nostro aiuto, il nostro scudo, possiamo dire amè, gloria a Dio, il Signore è il nostro aiuto, il nostro scudo, alleluia. Sì, il nostro cuore si rallegrerà in Lui, perché confidiamo nel suo santo nome la tua benignità, o Eterno, sia su di noi, perché abbiamo sperato in Lui. Che parole meravigliose, fratelli. I veri credenti, coloro che sperano nel Signore, che sono veramente convertiti a Lui, devono essere gioiosi, alleluia. Il popolo dell'Eterno è un popolo gioioso, allegro. La Chiesa deve risplendere con la gioia del Signore, fratelli. Noi siamo il popolo del Dio Altissimo, del Dio Onnipotente. Colui che ci ha scelti è grande, il Dio grande, il Dio maestoso. E noi dobbiamo essere pieni di gioia, perché Lui ci ha scelti, ci ha fatto diventare, come dicevamo, la sua eredità. Siamo preziosi, siamo il suo tesoro particolare e dobbiamo rallegrarci in Lui. Amen? Verso 20. L'anima nostra aspetta l'Eterno. Egli è il nostro aiuto, il nostro scudo. Quale grande, fratelli, motivo di gioia che abbiamo. Verso 21. Sì, il nostro cuore si rallegrerà in Lui, perché confidiamo del suo santo nome. Ti stai rallegrando nel Signore? O stai vivendo una vita mesta, una vita triste? Ti lamenti del continuo? Sei triste? Sei preoccupato? Pieno di ansietà? Ma no, caro, se tu sei stato scelto dal Signore, già soltanto questa verità basterebbe, basterebbe per farci vivere una vita gioiosa. Lui ci ha scelti. Gloria a Dio. Lui ci ha chiamati. Lui ci ha strappati da questo mondo di tenebre. Ci ha fatto essere i Suoi figliuoli. Ci ha rigenerati. Siamo nati di nuovo. Apparteniamo al Dio grande e glorioso. E questo è un grande motivo di gioia. Chiesa del Signore. Non ti rattristare. Non essere triste. Non essere abbattuto. Sì gioioso nel Signore. Il Signore desidera vedere un popolo gioioso, fratelli. Ma noi dobbiamo confidare nel Suo Santo Nome. Chi confida in Lui, chi impara a confidare in Lui giorno dopo giorno e si aggrappa a Dio, chi fa questo? È una persona gioiosa. È una persona allegra, cari. E stamattina ho letto nei Proverbi 14, 30, che un cuore sano, possiamo dire un cuore allegro, produce, gloria a Dio, salute. È salute per il corpo. È scritto un cuore allegro è medicina per il corpo. Fratelli, il nostro cuore si deve rallegrare nel Signore. Alleluia! Siate allegri! Esultate o giusti nell'eterno. Vedete, cari, al verso 1 dice, in questo prezioso Salmo, dice Esultate o giusti nell'eterno. La lode si addice agli uomini retti. Quando noi siamo persone che sono state salvate, perché i giusti sono quelli che sono stati salvati, redenti, lavati nel sangue di Gesù. I giusti sono coloro che sono stati giustificati. Se io posso essere giusto, se io sono giusto, non è per i miei meriti. Non è perché io sono buono, sono bravo, sono perfetto, sono intelligente. No! Io sono giusto per i meriti di colui che è il giusto. Per mezzo del sangue del giusto, del fedele, del verace, per mezzo del sangue di Cristo, tu e io siamo giusti agli occhi di Dio il Padre. Siamo giustificati. Giustificati dunque per fede. Alleluia! Abbiamo pace con Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Carissimi nel Signore, per mezzo della fede, per mezzo della grazia, per mezzo di questa grande salvezza che Dio ci ha donato, noi siamo resi giusti. Prima eravamo ingiusti, prima vivevamo nel peccato, ma oggi siamo stati resi giusti. Per mezzo della giustizia di Gesù Cristo, che ci è stata imputata, ci è stata accreditata per mezzo della fede, noi siamo giusti agli occhi di Dio, perché Dio ci vede coperti, lavati nel sangue di Gesù Cristo. Allora, noi dobbiamo esultare. Cosa vuol dire esultare? Gioire, giubilare, gioire, rallegrarci. In altre parole, noi dobbiamo festeggiare. Noi dobbiamo glorificare Dio. Alleluia! Lo dobbiamo esaltare. E allo stesso tempo noi stessi possiamo, gloria a Dio, esultare. Amen? Nel nome del Signore. Nel Signore. Poi dice ancora nel verso 1, la lode si addice agli uomini retti. Chi sono gli uomini retti? Sono quelli di cui parlavamo, coloro che sono stati riscattati dal Signore, i salvati, i redenti, coloro che sono stati scelti da Dio, giustificati. Sono i giusti, i retti. E la lode, la vera lode, può essere soltanto effusa. Annunciata, proclamata dagli uomini retti. La lode si trova negli uomini retti. Soltanto gli uomini retti, che sono stati scelti da Dio, che stanno camminando nella rettitudine, possono glorificare Dio nel modo accettevole. Cari, soltanto coloro che veramente stanno camminando nella retta via, possono lodare Dio in un modo gradito davanti a Lui, in un modo spirituale, in un modo accettevole. Soltanto i redenti, gloria a Dio, nel sangue di Gesù, possono lodare il Signore. Sei tu un uomo retto? Stai camminando nella retta via? Stai perseverando nella chiamata di Dio, nella grazia di Dio? Stai vivendo una vita giusta agli occhi di Dio? Cari, la lode si addice agli uomini retti, non ai carnali, non ai peccatori, non ai mondani, non ai tiepidi, non a coloro che vivono una fede che è soltanto un'apparenza, scusate quello che dirò, non ai dominicali, ma è la verità, cari, se tu sei un dominicale, devi ravvederti, se tu stai vivendo una vita mondana, devi ravvederti, se tu stai camminando secondo la carne, devi ravvederti, perché la lode si addice agli uomini retti, agli uomini spirituali, a coloro che si arrendono al Signore, soltanto questo tipo di persone possono lodare Dio in un modo accettevole, alleluia, celebrate l'Eterno con la cetra, cantate a Lui con l'arpa a dieci corde, fratelli, noi dobbiamo lodare Dio con tutto il nostro cuore, qui dice con la cetra, ma quella cetra rappresenta noi stessi, la nostra vita, perché noi siamo strumenti nelle mani di Dio, la cetra rappresenta la tua vita, la mia vita, e deve essere una cetra a dieci corde, le dieci corde rappresentano la pienezza, la completezza, noi dobbiamo lodare Dio con tutto noi stessi, con le dieci corde, non con nove, non con otto corde, con sette corde, con cinque corde, no cari, tutte le corde della nostra vita devono lodare Dio, noi dobbiamo lodarlo nella completezza, nella pienezza, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, dobbiamo lodare Dio, alleluia, con tutto noi stessi, perché Lui è degno, alleluia, che noi lo lodiamo con gratitudine, con un cuore pieno d'amore, con un cuore integro, gloria a Dio, Signore aiutaci a essere tali strumenti, lodate il Signore con la cetra a dieci corde, amén, noi lo dobbiamo lodare nella pienezza, nella completezza, nell'integrità, con tutta la nostra vita, gloria a Dio, diamo tutto al Signore, arrendiamoci interamente a Lui, fratelli, alleluia, cantateli un cantico nuovo, amén, e vi voglio dire un nuovo cantico scaturisce da un nuovo cuore, da un cuore che è stato trasformato dalla grazia di Dio, il nuovo canto esce da un cuore nuovo, da un cuore rigenerato, da un cuore trasformato, da un cuore puro, da un cuore gioioso, un cuore libero, un cuore ripieno di spirito, un cuore che cammina nelle vie di Dio, non nella via vecchia, non nelle vecchie abitudini, nei vecchi pensieri, ma nei nuovi pensieri, nella nuova vita. un cuore nuovo può offrire un canto nuovo. Oh, fratelli, che il Signore ci aiuti ogni giorno a rinnovare i nostri cuori dinanzi a Lui, perché Lui è degno. Alleluia. Lui è degno della nostra lode, della nostra adorazione. Amén. Suonate abilmente e acclamate. Fratelli, noi dobbiamo lodare Dio in un modo piacevole dinanzi a Lui, con impegno, con dedicazione, non come capita, ma lo dobbiamo lodare nel migliore dei modi. Amén. Per questo che abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio riempia i nostri cuori. Gloria al Signore, perché la parola, gloria a Dio, alleluia, la parola, alleluia, del Signore è retta. Tutte le sue opere sono fatte con fedeltà. Vedete, la parola del Signore è retta. Ed è la parola del Signore che ci fa diventare uomini retti, più tutti i cibi della parola. La fai entrare in te, la parola vive in te, la parola di Dio ti farà essere un uomo retto, perché essa ti trasforma, essa ti santifica, essa, gloria a Dio, ti fa crescere nella volontà di Dio. La parola di Dio è retta e ci fa diventare uomini retti che camminano nella rettitudine. Amén. Tutte le sue opere sono fatte con fedeltà. Fratelli, le cose di cui stiamo parlando sono opere di Dio e Dio che fa queste cose quando noi ci arrendiamo a Lui. Amén. Non sono i nostri sforzi, le nostre facoltà, non è la nostra bravura, come dicevo, ma è l'opera di Dio, l'opera dello Spirito che ci fa essere giusti, retti, ubbidienti, ci fa camminare nella via che Dio ha tracciato per noi. Gloria a Dio. Verso 5 Egli ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della benignità del Signore. Fratelli, noi dobbiamo praticare la giustizia, Dio ama la giustizia, Dio ama la rettitudine, Dio non ama la menzogna, anzi, Dio odia la menzogna, è un'abominazione agli occhi di Dio vivere una doppia vita, una vita nella carnalità, una vita mondana. Cari, ma Dio ama la giustizia, amèn, Dio ama l'equità, cioè ciò che è corretto, ciò che è giusto, gloria a Dio, amèn, la terra è piena della benignità del Signore. I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno, tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca. Vedete, la parola di Dio è creativa, è creatrice, alleluia, la parola di Dio crea ogni cosa. Ascoltate, se la parola di Dio fin dal principio ha avuto il potere di creare il cielo, amèn, i cieli furono fatti per mezzo della parola del Signore, se la parola di Dio ha avuto il potere, l'efficacia di creare l'universo, quanto più la parola di Dio può creare in noi, può creare in noi delle cose meravigliose, cioè tutto ciò che stiamo dicendo, la rettitudine, la giustizia, l'equità, la santità, la lode, gloria a Dio, la parola di Dio può creare miracoli e prodigi nella nostra vita, meraviglie nella nostra vita, amèn. Verso 8 Tutta la terra tema l'Eterno e tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, fratelli, quanto è importante il timore di Dio, perché il timore di Dio, il principio della sapienza, purtroppo oggi molti cosiddetti credenti non vivono più nel timore di Dio, non cercano più, non camminano più nel timore di Dio, cari molti hanno perduto il timore di Dio, ma il timore di Dio, il principio della saggezza, il Signore vuole che noi camminiamo nel suo santo timore, oggi purtroppo in molte comunità, in molte chiese, non si predica più riguardo al timore di Dio, non si insegna più, non si pratica più, non si ricerca più il timore di Dio, fratelli, ma il timore di Dio è essenziale per la nostra vita e per la nostra salvezza, amén, gloria al Signore, verso 9 dice, poiché Egli parlò e la cosa fu, vedete l'efficacia, la potenza della parola di Dio, Dio parla e le cose avvengono, avvengono, alleluia, Dio pronuncia la sua parola e le cose, gloria a Dio, sono fatte, amén, Dio proclama e le cose cambiano, le cose, gloria a Dio, si raddrizzano, Dio fa ogni cosa col potere della sua parola, per questo che il centurione ebbe questa rivelazione, ebbe questa fede, e il centurione disse, Signore, non c'è bisogno che viene in casa mia, Signore, io non sono degno che viene in casa mia, ma di una parola, ce l'hai tu questa fede, che basta una parola del Signore per cambiare la tua vita, per liberarti da quella malattia, per distruggere i tuoi nemici, alleluia, per spezzare i legami che stanno ancora legando il tuo figlio nella droga, nel vizio, credi tu che basta una sola parola del Signore per guarire, per liberare, per trasformare la vita delle persone, per convertire il tuo marito o la tua moglie o i tuoi figli, basta una parola, noi dobbiamo avere questa fede, di una parola, o il Signore il mio servo sarà guarito, egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse, fratelli, quando il Signore comanda, le cose cambiano, ogni cosa è fatta, tutto è compiuto, quando il Signore comanda, quando il Signore parla, quando Lui manda la sua parola, la sua parola fa prodezze, fa meraviglie, fa miracoli, perciò cari, abbiate fede nella parola, nella potenza di Dio, amèn, verso 10, l'Eterno fa fallire il piano delle nazioni, annulla i disegni del popolo, fratelli, noi dobbiamo confidare nel Signore, il Signore ha il potere di annullare i disegni malvagi, progetti malvagi, degli uomini empi, degli uomini ribelli, chissà, forse c'è qualcuno che sta progettando qualcosa di cattivo contro di te, ma ti voglio dire, il Signore annulla quel disegno malvagio, il Signore annulla, gloria a Dio, quel progetto diabolico, il Signore annulla, alleluia, e dissolve ogni progetto malefico contro la tua vita, riposa in Lui, sii sereno, sii fiducioso perché il Signore e l'Onnipotente protegge la tua vita e la tua famiglia, gloria a Dio, noi confidiamo in Lui, Lui dissolve, Lui annulla i disegni malvagi, verso 11, il piano del Signore dimora per sempre, i disegni del suo cuore per ogni generazione, fratelli, dobbiamo sottometterci al piano del Signore, al progetto del Signore, ai propositi del Signore, abbandonate i vostri pensieri, abbandoniamo, cari, i nostri desideri e sottomettiamoci, amèn, arrendiamoci ai piani di Dio, ai propositi di Dio perché i progetti di Dio durano per sempre, sono meravigliosi, alleluia, i disegni del suo cuore per ogni generazione, fratelli, il Signore ha dei disegni meravigliosi per i suoi figli, per la sua chiesa, i disegni di Dio sono meravigliosi, gloriosi, perciò, fratelli, riposiamo in questa grande verità, gloria al Signore, come dice nel verso 18, ecco l'occhio dell'Eterno e su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità, fratelli, è tempo di vivere nuovamente nel timore di Dio e di sperare nella sua benignità, allora l'occhio del Signore sarà continuamente su di te perché Dio non può guardare con occhi possiamo dire graditi coloro che non lo temono, l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, fratelli, e l'occhio dell'Eterno rappresenta la sua protezione, le sue cure, amén, la sua stessa providenza, la sua presenza, l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, fratelli, noi dobbiamo camminare sotto lo sguardo di Dio, amén, temere il suo santo nome, sperare nella sua benignità, lui è fedele, ci libererà da ogni male, fratelli, riposiamo in questa verità, rallegriamoci in questa verità, elodiamo e glorifichiamo il nostro Dio, prendiamo nuove forze in questa parola, incoraggiamoci, alleluia, gloria al Signore, rallegriamoci in questa verità, alleluia, questa parola è vivente, efficace e in questo momento io credo che questa parola sta creando, sta creando quello di cui avevamo bisogno nei nostri cuori, la parola di Dio crea, crea fede, crea pace, oh alleluia, la parola di Dio fa meraviglie nella nostra vita, la parola di Dio guarisce, libera, alleluia, la parola di Dio ci dà la vittoria, alleluia, sii purificato, sii guarito per mezzo di questa parola, nel potente nome di Gesù, sii rinnovato, alleluia, rialzati fratello, esulta, gioisci nel Signore, fatti riempire dalla luce di questa parola, dalla potenza di questa parola, perché la parola del Signore è vivente, è spirito, è vita, e se tu l'accogli nel tuo cuore, questa parola ti darà una nuova energia, gloria a Dio, ti darà una nuova potenza, una nuova unzione, alleluia, ravviverà la tua fede, questa parola ti darà pace, questa parola, gloria al Signore, ti illuminerà, questa parola fa cose grandi nella tua vita, credilo, credilo in questo momento, abbi fede, digli, Signore, per questa parola tu mi guarisci, tu mi liberi, qualsiasi sia il tuo bisogno in questo momento, tu che ascolti, se sei schiavo ancora di qualche vizio, se ci sono ancora delle catene nella tua vita, dei legami, questa parola è il potere di spezzare i legami, nel nome di Gesù, per fede, per la gloria di Dio, dichiaro guarigione, liberazione, nel nome di Gesù Cristo, la parola di Dio ti libera, alleluia, la parola di Dio ti guarisce, la parola di Dio ti rinnova in questo momento, ti rialza, alzati nel nome di Gesù, si libero nel nome di Gesù, alleluia, si guarito nel nome di Gesù, alleluia, invoca il suo nome in questo momento, invocalo, invocalo, chiamalo, alleluia, perché egli ti risponderà, perché l'occhio suo è su di te, alleluia, invocalo, invocalo, nel nome di Gesù, alleluia, ricevi liberazione, per mezzo di questa parola, si arrotta ogni catena nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, amén, e amén, grazie Padre, alleluia, la tua parola è vivente, mio Dio, ti ringraziamo, nel nome di Gesù, benedetto, in eterno, amén, e amén.